Grazie dell'invito, grazie a Sandro per le sue parole e ha ricordato quei tempi in cui i nostri capelli avevano un colore leggermente differente, passato un po' di tempo. Ma grazie davvero, mi ha fatto piacere rincontrare Sandro, sebbene solo che lematicamente in questi giorni precedenti, questo evento. Adesso userò delle diapositive e quindi farò adesso la condivisione dello schermo, vediamo che tutto funzioni come deve funzionare. Dovreste darmi l'ok se si risulta condivisa una finestra. Perfetto. Allora, come vedete, il titolo è la freccia del tempo e poi ho suggerito un sottotitolo che è messo in alto, che è in qualche modo il problema di irreversibilità. E nel corso del seminario cercheremo di capire perché c'è un problema. Il tempo è forse uno dei concetti più primitivi che abbiamo. Non c'è azione, movimento, memoria che non sia nel tempo. Ci siamo immersi. Ma il fatto che siamo immersi nel tempo non vuol dire che lo comprendiamo davvero, che ne comprendiamo davvero la sua natura. Sant'Agostino diceva se mi chiedono che cosa sia il tempo, se non mi chiedono che cosa sia il tempo lo so, ma se me lo chiedono non lo so. E dopo duemila anni mi ritrovo nella stessa situazione. Sono molti i temi che si possono affrontare da fisici sul tempo. Io questa sera mi concentrerò su un aspetto del tempo che è quello collegato alla freccia del tempo e il cosiddetto problema dell'irreversibilità. Vedete, dove sta il problema? Iniziamo a chiarire i termini della questione. Tutti i processi naturali nel mondo che ci circonda avvengono nella stessa direzione temporale. Da un uovo facilmente si ottiene una frittata, ma non viceversa. Il colore fluisce sempre dal caldo al freddo. E le onde concentriche provocate da un sasso in uno stagno viaggiano sempre dal punto di impatto verso l'esterno, mai nella direzione opposta. Nel film Il curioso caso di Benjamin Button, che è tratto dall'omonimo racconto di Francis Scott Fitzgerald, Il personaggio interpretato da Brad Pitt è nato non nella forma di un bambino, ma nello stadio di sviluppo di un vecchio, cieco e avanti quegli anni. E mentre il resto del mondo si comporta normalmente, la sua vita si svolge a ritroso, fino a che gli effetti del ringiovanimento cominciano a prendere il sopravvento. Beh, si potrebbe sostenere, anche se non sono un critico letterario, che questa favola raccontata da Fitzgerald è una favola il cui vero protagonista è la freccia del tempo. Perché l'autore fa un gioco molto comune nella narrativa, soprattutto nella narrativa di fattascienza, si viola una delle regole e poi si cerca di essere il più consistente e coerente possibile in un svolgimento della trama con la regola che si è violata. La regola che viene violata in questo racconto è che sia possibile nello stesso universo, che ci siano sistemi fisici che abbiano frecce del tempo differenti. La parola, l'espressione, il preccio del tempo fu cognata dal fisico e astronomo britannico Arthur Eddington, che trovate riportato di nuovo. Io amo i film, se non avete capito. C'è un film carino che è stato tradotto da un amico Einstein, il titolo originale è Einstein Eddington. Eddington è stato colui che fece conoscere Einstein al grande pubblico, al pubblico anche scientifico, al di fuori della Germania, dato il 1905, e fu colui che per primo organizzò una spedizione per verificare le provisioni della relatività generale. Sento qualcuno che parla, c'è qualche problema? Avvisatemi se per caso c'è qualche problema sullo schermo o non si vede bene. No, tutto a posto, vai pure avanti. Tutto a posto. Sì, no, perché sentivo delle voci allora. E dicevo, Eddington incognò questa espressione, freccia del tempo, per indicare che il tempo ha una direzione, una freccia che punta dal passato verso il futuro. E l'artificio del romanzo di Zerald era quello di invertire la freccia del tempo di un individuo, ma lasciare che il resto del mondo avesse l'usuale andamento. Ma questo, quello che immagina, non può avvenire. Nel mondo in cui viviamo, il tempo ha la stessa direzione per tutti. La marcia irreversibile della freccia del tempo è governata dal secondo principio della termodinamica e dice che i processi naturali che avvengono nel mondo intorno a noi sono irreversibili. E una maniera più tecnica di esprimere lo stesso concetto è che l'entropia, di cui vi parlerò un pochino di più nel seguito, l'entropia dell'universo aumenta. Non può mai diminuire, insomma. Ed è questo principio quanto di più attendibile, affidabile, conosciamo sul funzionamento del nostro universo. Forse le nostre leggi fondamentali cambieranno in futuro, forse avremo delle nuove leggi della meccanica e chissà che cosa, ma credo che la seconda legge della termodinamica ci accompagnerà ancora per molto tempo, forse per sempre. È una delle scoperte più importanti della fisica. E sempre per il mio amore del film ho cercato un'immagine tratta dal film Un professore fra le nuvole, ma il primo, quello degli anni 60, quello di quando io ero un ragazzo. Ed è grazie, cosa fa il protagonista di questo film? Un chimico che inventa una palla, una speciale sostanza di cui può fare una palla, può anche mettere sotto la sua delle scarpe, che continua a rimbalzare sempre più in alto. E questa gomma volante, questa gomma che il chimico inventa in questo film, non può esistere nella realtà. non perché viene violata la legge della conservazione dell'energia. L'energia si conserva semplicemente, si potrebbe conservare semplicemente perché la palla che rimbalza si rappresa sempre più, e quindi avremo l'energia dell'universo conservata. Ma il fatto che questo fenomeno non possa avvenire è una conseguenza della seconda legge della termodinamica. che nessun chimico che potrà mai inventare una palla che abbia questa caratteristica, che ogni volta che rimbalza va sempre più in alto, sempre più in alto, conservando l'energia. Perché? Perché violerebbe la seconda legge della termodinamica. C'è stato poi un seguito da questo film, da Robin Williams, ma una cosa carina del primo film, che c'è anche una parte del film in cui alla lavagna ci sono i calcoli che sta il professore, e in uno di questi calcoli si vede l'entalpia di un gas con il segno sbagliato. Gli sceneggiatori hanno avuto la cura anche di introdurre un segno sbagliato che permettesse quella violazione della seconda legge della termodinamica che altrimenti non sarebbe stato possibile. Quindi nel mondo che ci circonda tutto è regolato da questa direzione che i fenomeni hanno, da questa freccia del tempo, però sorprendentemente quando sondiamo sempre più il mondo nelle regioni microscopiche, quando andiamo alla ricerca di quelle che sono le leggi più fondamentali che governano le interazioni tra gli atomi e quello che succede dentro gli atomi e così via, quando ci allontaniamo insomma dal mondo dell'esperienza ordinaria non troviamo alcuna traccia della freccia del tempo, ma scopriamo che le leggi che governano il mondo atomico e subatomico non distinguono tra passato e il futuro. Le leggi fondamentali della fisica sono reversibili. Questo è esemplificato da un... ho messo un tavolo da biliardo perché se potessimo trascorare gli attriti che ci sono tra le palle da biliardo e il tappeto avessimo la possibilità che queste palle si muovessero senza nessun attrito, beh, avremmo riprodotto un po' quello che succede nel mondo microscopico degli atomi. Se una collisione tra due atomi procede in una direzione temporale e voi fate un film di questo processo, il processo di due atomi che si scontano, due palle da biliardo che si scontano e poi proiettate il film all'incontrario non noterete nulla di strano. Anche il processo in cui... che rappresenta le due palle che insomma che ritornano dove erano dopo essersi scontrate, beh, questo processo è compatibile con le leggi microscopiche. Cioè, questo significa che per ogni processo fisico è compatibile con le leggi fondamentali della fisica e ne esiste un altro altrettanto compatibile in cui futuro e passato sono scambiati. In altre parole, senza violare alcuna legge fondamentale della fisica, il calore potrebbe sfruire dal freddo al caldo e ai bordi di uno stagno si potrebbero formare delle onde concentrate che si avvicinano verso il centro dove poi ci dovrebbe essere il sasso che è caduto. E questo però non accade. E il sottotitolo di questo seminario era il problema della reversibilità e sta tutto in questo. Sta nel fatto che noi cerchiamo di comprendere il mondo che ci circonda sulla base dei costituenti microscopici del mondo, atomi, molecole, quello che sta dentro agli atomi e così via, e le leggi che governano queste entità microscopiche sono leggi reversibili. mentre la caratteristica fondamentale del mondo che ci circonda è la sua irreversibilità, l'esistenza di una freccia irreversibile del tempo. Quindi il problema dell'irreversibilità è quello di conciliare, non solo di conciliare, sono stato troppo generoso, non solo occorre riconciliare le leggi fondamentali irreversibili con la freccia irreversibile del tempo, ma occorre avere una spiegazione di questo comportamento irreversibile sulla base delle nostre leggi fondamentali che governano il mondo microscopico. Allora, in un salto temporale di molte centinaia d'anni passiamo da Lucrezio a Boltzmann. Lucrezio è stato un grande poeta ma un grande divulgatore della teoria atomica di Democrito. Dererum Natura è una somma della fisica atomistica di origine greca e a un certo punto nel libro quinto del Dererum Natura scrive certamente gli atomi non si disposero a bella posta con scalco disegno secondo un ordine proprio né stabilirono i moti che ognuno dovesse produrre. Come dire, quello non c'è un qualcosa che fa tendere il movimento degli atomi in una direzione anziché un'altra. Quindi, come vedete, chi ha riflettuto su queste questioni di base, anche se la fisica era molto più primitiva, ha però colto alcuni aspetti che hanno accompagnato lo sviluppo della scienza e della fisica per più di duemil'anni. Per arrivare ad una soluzione di questo problema che ho posto il problema dell'irreversibilità bisogna arrivare a Ludwig Boltzmann. Siamo nella seconda metà nell'Ottocento e il lavoro di Boltzmann in cui chiarifica questo problema è intorno al 1877. ora il nocciolo del lavoro di Boltzmann consiste in questo, nel chiarificare il concetto di entropia che era stato introdotto una ventina d'anni prima da Clausus, un grande fisico tedesco. l'entropia era stata introdotta per caratterizzare l'irreversibilità dei processi macroscopici ed era stata collegata a grandezze quali il calore e la temperatura. mentre dell'energia si aveva molto chiara si aveva molto chiaro il significato microscopico perché in una concezione atomica della materia l'energia è semplicemente la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale di interazione tra i vari costituenti elementari l'entropia fino a Boltzmann mancava di una chiara comprensione microscopica. Il nocciolo della comprensione dell'entropia che ebbe Boltzmann consiste nel capire che l'entropia ha a che fare con il rapporto tra la descrizione microscopica di un sistema e la sua descrizione macroscopica quando descriviamo microscopicamente un sistema per esempio con le leggi della fisica classica lo stato del sistema sono io non ho scritto formule qualche formula mi permetto di scriverla ma non voglio disturbare nessuno diciamo nel senso che anche se non è chiaro quello che la matematica che scrivo cercherò di mantenere una conversazione che poi sia abbastanza indipendente però con le notazioni della matematica se io descrivo per esempio un gas formato da n molecole a livello microscopico devo assegnare le posizioni di queste molecole e devo assegnare le sue velocità le velocità scusate delle molecole in questione questa è la descrizione microscopica che viene data del gas n è un numero per un gas per fronte a noi quello che ci circonda in questa stanza spaventosamente grande dell'ordine di 10 alla 23 numero di avogade la descrizione qui vedete c'è un errore questo ovviamente sto confrontando una descrizione microscopica con una descrizione macroscopica quel cambio di vocale fa una differenza immensa che si è persa nella mia preparazione delle diapositive la descrizione macroscopica di un gas o di un liquido si basa su pochissime variabili quando questo gas per esempio è in condizioni di equilibrio come il gas in questa stanza quando ne do la pressione ne do la temperatura e dico quanto gas c'è di solito in termodinamica si specifica il numero di moli ma non fatevi distrarre dalla tua remontazione insomma si dà una descrizione con pochissime variabili da una parte abbiamo qualcosa che è dell'organ di 10 alla 23 e dall'altra abbiamo una descrizione del gas in equilibrio con pochissime variabili e quelli sono sufficienti a caratterizzare lo stato macroscopico Boscan comprese che è proprio in questa relazione tra il micro e il macro che sta la chiave della comprensione della nozione di entropia ora qui mi ero lasciato un po' di spazio bianco per dare un esempio elementare perché la formula che che qui non ho scritto e che scrivo adesso che la formula che scrisse Boltzmann è che l'entropia è a meno di una costante che è chiamata costante di Boltzmann è una misura lasciate perdere il logaritmo quello che conta è che è una misura quell'omega è il numero di stati microscopici che hanno le stesse caratteristiche macroscopiche quindi il nocciolo della dell'entropia da un punto di vista microscopico è quello di essere una misura del numero di stati microscopici che hanno le stesse caratteristiche macroscopiche dopodiché quella costante è semplicemente introdotta per collegare questa formula alla usuale entropia termodinamica e quel logaritmo diciamo è introdotto per ragioni sempre di corrispondenza con l'entropia della termodinamica l'entropia della termodinamica è una funzione additiva che vuol dire che se ho due sistemi l'entropia del sistema composto formato dai due sistemi è la somma dell'entropia di ciascun sistema del sommo se invece guardassi il numero degli stati il numero degli stati del sistema composto è il prodotto del numero degli stati del primo sistema per il numero degli stati del secondo sistema il logaritmo è la sola funzione che trasforma prodotti insomma quindi non è concettualmente fondamentale se non per avere una formula che ci colleghi all'entropia termodinamica quello che conta e quello che comprese Boltzmann è che l'entropia è una misura del numero di modi distinti in cui si può realizzare lo stesso stato macroscopico in questo senso spesso si parla di entropia associata a un disordine del sistema al disordine del sistema però diciamo non è questo può essere fuorviante è chiaro adesso parlando terra a terra perché una misura del disordine in un certo senso beh se pensate ad una stanza molto ordinata è una stanza molto ordinata è una stanza in cui le cose stanno tutte al loro posto i libri sono sulla libreria però magari uno può essere prima l'altro può essere dopo i soprammobili stanno sulla credenza la televisione è stato dove deve stare insomma i numeri cioè poi potete scambiare un pochino spostare la televisione in un altro lato della stanza scambiare qualche libro ma avete un certo numero di stati microscopici della vostra stanza che è di gran lunga inferiore alla situazione di completo disordine in cui che so un calzino è finito sulla libreria in cui i soprammobili sono finiti sotto la poltrona e così via cioè quando aumenta il numero di stati microscopici che realizzano lo stesso stato macroscopico in quel caso si parla di un sistema più disordinato però diciamo questo non va preso anche un pochino con le molle ma non abbiamo tempo di entrare nel merito perché questa analogia poi è buona in un certo senso ma non ottimale allora dicevo che volevo dare a tutti un'idea di come si contano gli stati e di cosa rappresenta l'entropia in una situazione estremamente semplice quindi mi concedo pochi minuti un pochino più di matematica elementare ma immaginiamo di avere un non le particelle che si muovono nello spazio che compongono gas ma avere un sistema molto più semplice per esempio un sistema che è formato da palline una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci in realtà poi per fare una simulazione di termodinamica dovrebbe essere dieci cose abbastanza difficili diciamo che introduco questa regola dinamica questa qui è la particella numero uno questa è la particella numero due numero tre numero quattro numero cinque numero sei numero sette numero otto numero nove numero dieci e mi invento una dinamica artificiale per questo semplice modello dico che a ogni istante di tempo metto in un sacchetto i numeri da uno a dieci come i numeri della tombola e estraggo un numero e in corrispondenza del numero che ho trovato cambio il colore della pallina quindi diciamo quindi diciamo all'istante successivo per esempio ho estratto il numero sei e il numero sei cambio colore lo faccio diventare da rosso lo faccio diventare verde quindi la regola è questa estrarre a caso dei numeri da uno a dieci da un sacchetto della tombola e ogni istante cambiare il colore abbiamo solo due colori possibili ciascuna pallina può essere rossa o verde e quindi poi vado avanti continuo a iterare questa procedura per tanti tante faccio tante iterazioni cosa pensate intuitivamente che succede di solito chiedo ai miei studenti quando faccio questo quando faccio questo modello nei corsi di fisica elementare tipicamente ottengo la risposta giusta la risposta giusta è ma più o meno ci saranno circa metà palline verdi e metà palline rosse e qui dove entra l'entropia allora diciamo che il il numero di stati qui ci sono quanti quanti stati microscopici gli stati microscopici sono consistono nello specificare per ciascuna pallina se è rossa o verde quindi dato che sono indipendenti abbiamo due possibilità per la prima pallina due per la seconda due per la terza e così via quindi c'è un totale di due alla dieci stati microscopici se io adesso avessi queste palline davvero tantissime ma non dieci una quantità spaventosamente grande e le vedessi davanti a me e considerassi lo stato macroscopico lo stato macroscopico sarebbe il colore intermedio che questo filo di questo collana di palline avrebbe intermedio tra il rosso e il verde quindi la variabile macroscopica per descrivere questo sistema è il numero di palline rosse per esempio allora se considero il numero di palline rosse come un indicatore macroscopico del sistema la domanda che mi devo fare è quanto vale il numero di stati quest'omega che si usa in fisica statistica sta per conteggio degli stati si vanno a contare quanti sono gli stati che hanno un numero di palline rosse pari a un certo valore per esempio n piccolo e beh qui questo problema se avessimo più tempo un problema che si può svolgere benissimo anche al liceo beh si aggiunge la conclusione che se abbiamo n palline io ne ho prese 10 ma insomma poi uno prende un numero arbitrario quello che si ottiene è n fattoriale diviso n fattoriale n meno n fattoriale fattoriale vuol dire moltiplicare tutti i numeri che ci sono da n quindi nel caso di 10 fattoriale fattoriale significa fare 10 per 9 per 8 per 7 per 6 e così via quando uno va a fare un plot un grafico altra cosa che si può fare comodamente al liceo usando anche i programmi molto semplici come Excel va a vedere come è fatto il grafico del numero degli stati in funzione di n e scopre che sono che è un grafico in cui il maggior numero di stati è concentrato intorno alla metà di n intorno anni e mezzo e questo è il modo per comprendere da un punto di vista microscopico la seconda legge della terminale il fatto che io vedete nell'esempio che sono partito sono partito da tutte palline rosse che è uno stato che si realizza in un modo solo c'è soltanto uno stato microscopico che corrisponde allo stato macroscopico che è il numero di palline rosse man mano che le palline cambiano colore nel corso del tempo il numero di stati microscopici accessibili aumenta e quindi una delle ragioni che spiega la seconda legge è semplicemente questo fatto aritmetico che il numero di stati microscopici che corrispondono ad uno stato macroscopico di equilibrio sono la schiacciante maggioranza degli stati microscopici questa è l'idea che ebbe Boltzmann e questa diciamo la chiave di volta per capire il significato microscopico dell'entropia appunto come una misura del numero di stati micro che corrispondono agli stessi stati macroscopici che hanno le stesse caratteristiche macroscopiche e quindi l'aumento dell'entropia è un aumento dovuto al fatto che gli stati che corrispondono all'equilibrio dell'equilibrio termodinamico sono la schiacciante maggioranza degli stati possibili insomma di questi due la dieci la maggior parte degli stati avrà 5 palline rosse 4 palline rosse 6 palline rosse ma starà in quell'intorno lì e più grande n più è chiara la situazione allora è questa idea che io ho esposto in questo esempio molto semplice che permette di capire fenomeni quali quando abbiamo un gas beh il fatto che se ho un gas dentro un contenitore diviso in due parti inizialmente dall'altra parte c'è il vuoto e poi apro un canale di comunicazione tra le due parti le particelle tenderanno a diffondersi nel quello che prima era il vuoto e a riempire uniformamente le due parti del contenitore la ragione è perché il numero di stati microscopici che corrispondono a questa situazione cioè a questa situazione qui in questa ultima del disegno dove adesso puntato il laser il numero di stati microscopici che corrispondono a questa situazione è di gran lunga maggiore spaventosamente maggiore di quelli che corrispondono a tutte le palline tutti gli atomi in questo lato e nessun atomo dall'altra parte stessa cosa può dirsi per il miscelamento di due gas di natura chimica differente qui sono delle molecole verdi delle molecole rosse sono inizialmente separate se tolgo il setto divisorio raggiungerà uno stato finale di equilibrio in cui le palline verdi e rosse sono totalmente mescolate tra loro l'entropia aumentata perché l'entropia significa questo una misura del numero di stati micro che hanno le stesse caratteristiche macroscopiche ora qui il tempo vola io mi ho lasciato un po' di spazio per introdurre un pochino di matematica ma non lo faccio mi limito a dire questo mi limito a dire che quando si va a contare gli stati microscopici quando questi formano un continuo è un'operazione un pochino più delicata mentre prima nel caso delle palline contavo come mi hanno insegnato la scuola elementare se devo contare gli stati microscopici che hanno le stesse caratteristiche di pressione e temperatura e che occupano io non ho qui aggiunto il volume perché poi le variabili termodinamiche se la sostanza è pura sono vincolate ad un'equazione di stato ma mettiamoci pure il volume insomma sta di fatto che adesso qui gli stati formano microscopici formano un continuo perché ciascuna particella può essere in qualunque punto del contenitore in cui si trova e può avere una qualunque velocità allora bisogna avere un po' più di accorgimenti anche questa maniera di contare il continuo su un sodotto da Boltzmann ma lo si può fare e si può quindi arrivare ad un calcolo dell'entropia di un gas per forti era quello che mi ero prefisso di fare se avessi avuto un pochino più tempo ma vedo che siamo già a un quarto alle dieci e volevo tenermi un pochino di tempo ma poco per la parte finale di questo seminario quindi in questa diapositiva in cui non ci ho scritto niente avevo in mente di scrivere qualche forma qui volevo trarre una morale la morale è di nuovo un po' matematica quindi non ci stiamo troppo ma quando prima ho detto che a livello microscopico il sistema è descritto dalle posizioni e dalle velocità delle molecole o degli atomi non ho nessuna maniera di visualizzare questo spazio perché questo spazio è spaventosamente grande se ci sono n molecole n è di 10 alla 23 questo spazio è di dimensione spaventosa non riesco a visualizzarla allora mancanza di meglio l'ho rappresentato come un rettangolo cosa sono tutti quegli sgorbi che ci sono in questo disegno allora rappresentano stati che hanno caratteristiche macroscopiche simili per esempio tornando al gas di prima il gas quando si trova tutto contenuto nel contenitore di sotto a questo stato macroscopico corrisponde una certa regione in questo spazio si chiama spazio delle fasi l'insieme di tutti gli stati microscopici poi si possono avere altre configurazioni macroscopiche ma quello che succede quando si va a studiare come sono fatti diciamo questi stati microscopici quello che si scopre è che c'è un insieme spaventosamente grande questo disegno non rende l'idea quello che ho chiamato gamma di equilibrio è la regione dello spazio delle fasi in cui i punti microscopici che sono lì dentro hanno le stesse caratteristiche dell'equilibrio termodinamico e quelli che invece stanno in altre regioni corrispondono a stati di non equilibrio bene la schiacciante maggioranza di questo spazio delle fasi è occupata dalla regione di equilibrio quindi questo disegno le proporzioni sarebbe quasi impossibile disegnarlo perché uno disegnerebbe soltanto lo stato di equilibrio allora la regione per cui l'entropia aumenta in questo disegno diventa la seguente se il sistema parte da una regione che no non volevo quello ma volevo questo se il sistema ad un certo istante si trova in una piccola regione cioè in una regione che da un punto di vista macroscopico è molto lo spazio delle fasi di questa regione è molto più piccolo dell'equilibrio parte da lì la dinamica fa evolvere nello spazio delle fasi il sistema cos'è la dinamica? la dinamica la rappresento come una curva nello spazio delle fasi perché queste R1 Rn V1 Vn descrivono le posizioni le velocità delle n molecole le molecole interagiscono tra di loro attraverso forze newtoniane e quindi abbiamo che nel corso del tempo questa curva che rappresenta il movimento del sistema prima o poi viene a cascare in questa regione molto grande che è la regione che corrisponde a punti microscopici che hanno caratteristiche di equilibrio ternodinamico cioè tornando all'esempio di prima regioni in cui viene realizzata questa configurazione la configurazione in cui il gas è uniformamente distribuito in tutte e due le parti del di questo contenitore adesso il sistema è reversibile quindi diciamo lui passerà un po' di tempo qua dentro poi continuerà a muoversi e poi eventualmente potrà fluttuare e raggiungere di nuovo uno stato di non equilibrio però se si fanno i calcoli e si va a vedere quanto tempo medio è richiesto per che il sistema spontaneamente esca dall'equilibrio si scopre che questi tempi sono di gran lunga superiori all'età dell'universo quindi se voi avete realizzato una situazione di questo tipo in cui siete partiti in questo modo con inizialmente tutto chiuso il gas contenuto solo di sotto e poi avete aperto il foro avete raggiunto una situazione di equilibrio che corrisponde a questo stato poi vi mettete lì guardate aspettate aspettate poiché le leggi sono reversibili le leggi microscopiche beh a un certo tempo ritornerà il sistema nello stato iniziale però quel tempo richiesto questa fu una delle obiezioni che fecero a Boltzmann a Boltzmann gli dissero ma no la tua spiegazione della seconda legge non ci convince perché la dinamica è una microscopica e reversibile e Boltzmann fece il calcolo fece il calcolo del tempo medio richiesto per ritornare nello stato di partenza e scoprì che era 10 alla 10 alla 10 alla 10 non importa neanche specificare secondi anni o qualche lesso numeri talmente grandi spaventosamente più grandi dell'età dell'universo che non sono non sarà quindi mai osservabile diciamo una situazione in cui un sistema spontaneamente ritorna allo stato di partenza e quindi spontaneamente l'entropia si riduce ora queste sono le idee generali della spiegazione di Boltzmann il dettaglio è abbastanza complicato e questo diciamo il dettaglio richiede che sia affrontato a livello universitario con diciamo degli accorgimenti anche matematici non banali però l'idea centrale è grossomodo quella che ho cercato di comunicarvi adesso che mi sto avvicinando alla fine della lezione se mi avete seguito e se avete trovato anche non facilissimo un po' ostico quello che vi ho raccontato fino adesso io vi devo dire che del problema della irreversibilità da cui siamo partiti quello che ho svolto finora è corretto chiamarla la parte facile la parte facile è ciò che vi ho riassunto e alla quale Boltzmann diede un contributo enorme la parte difficile è ancora un problema aperto di fisica e vi descriverò brevemente cosa intendo per la parte difficile parte difficile e parte facile di che cosa di quello da cui siamo partiti siamo partiti dal problema di spiegare l'irreversibilità in termini microscopici con l'ultimo disegno non so quanto sia stato chiaro di quello che succede in un gas la spiegazione di Boltzmann è se il sistema parte da uno stato di bassa entropia ricordatevi qui per avere un confronto con quello che ho detto prima regioni che sono più piccole contengono meno stati il volume di queste regioni l'area di queste regioni è una misura del numero di stati microscopici quindi regioni di area molto grande sono regioni con entropia più elevata di regioni più piccole che hanno un'area più piccola poi siamo in spazi a moltissime dimensioni quindi sarebbe più corretto di volume o addirittura di ipervolume ma la spiegazione di Boltzmann che poi funziona da un punto di vista matematico preciso è quella di mostrare che se il sistema parte da uno stato di bassa entropia cioè lo stato microscopico iniziale è in un macrostato fuori dall'equilibrio termodinamico il sistema andrà verso l'equilibrio all'inizio Boltzmann lo formulò in questo modo che ho detto io e lì vennero fatte delle critiche e giustamente lui si rende conto di aver fatto un errore nei calcoli e corresse questa sua affermazione dicendo che tipicamente il sistema andrà verso l'equilibrio tipicamente cosa intendo con questo intendo con elevatissima probabilità il sistema andrà verso lo stato di equilibrio questo è importante specificarlo perché in una regione comunque piccola non è detto che la curva abbia sempre un'evoluzione di questo tipo la curva che rappresenta la dinamica del sistema può addirittura andare verso regioni ancora più piccole ma questi sono eventi decisamente rari è come se aveste centomila monete non truccate le lanciaste e otteneste tutte croci è un evento possibile ma altamente improbabile quindi la spiegazione statistica della seconda legge della termodinamica consiste proprio in questo che l'aumento dell'entropia avviene con elevatissima probabilità ora questa probabilità è così prossima a uno diciamo è uno meno e alla meno 10 alla 23 di quell'ordine di grandezza lì dato che sono giorni in cui si discute di eventi di probabilità bassa in connessione con il covid cioè si parla di 25 su casi su 10 su 20 milioni perché qui stiamo parlando di cose ancora spaventosi di eventi ancora così rari che sono davvero inimmaginabili come uno su cioè la probabilità che non ci sia il comportamento termodinamico corretto è uno su 10 elevato alla 10 alla 23 cioè delle cose fuori dal mondo che non accadrebbero mai quindi la la seconda legge è impossibile violarla grazie a queste bassissime probabilità che si realizzano semplicemente perché il numero di particelle in gioco di corpi in gioco è estremamente elevato quindi per riassumere grazie a Boltzmann sappiamo che è possibile spiegare la freccia del tempo mediante leggi fondamentali reversibili e quello che ci ha spiegato Boltzmann è che se si parte da stati di bassa entropia con elevatissima probabilità il sistema evolverà verso stati di alta entropia però sappiamo appunto che questo funziona se l'universo se nel passato i sistemi si trovavano in stati di entropia ancora più bassa e come se andando a ritroso nel tempo incontrassimo stati di entropia sempre più bassa e questo diciamo è un qualcosa che ancora non comprendiamo cioè non comprendiamo il perché lo stato iniziale del nostro universo debba essere stato così improbabile questa è la parte difficile è la parte in cui la spiegazione dell'irreversibilità incontra la cosmologia moderna e dove ancora non è stata detta non solo l'ultima parola ma neanche la prima parola questo disegno che certamente molti di voi avranno già incontrato che cerca di dare un'idea dell'evoluzione del nostro universo partendo dai suoi stadi iniziali fino ad arrivare ai giorni nostri a una chiarissima freccia del tempo questa freccia del tempo è possibile se lo stato iniziale era di un certo tipo ben particolare con ben definite caratteristiche e noi non sappiamo ancora pur avendo modelli cosmologici che ci permettono di descrivere un pochino quello che succede ma non abbiamo ancora una chiara comprensione del perché lo stato iniziale doveva essere esattamente di quel tipo e per usare la nozione di entropia perché dovesse avere una così bassa entropia concludo mi avvio verso la conclusione concludo con le parole di un fisico illustre del ventesimo secolo che era Richard Feynman è stato tra i padri della moderna elettrodinamica quantistica e in un bel libro che consiglio a tutti che sono le leggi della fisica un libro divulgativo edito da Boringhieri troverete un racconto del problema della reversibilità e dell'irreversibilità senz'altro migliore di quello che ho fatto io ma insomma più o meno insiste su punti analoghi a quelli che ho affrontato e arriva a questa conclusione siamo negli anni sessanta del secolo scorso quindi sono passati un'ottantina d'anni settanta ottant'anni ma non ha mai cambiato idea a Feynman è morto negli anni ottanta del secolo scorso e concuse dicendo penso perciò che sia necessario aggiungere alle leggi fisiche l'ipotesi che nel passato fosse più ordinato nel senso tecnico nel senso tecnico in termini di funzione entropia o di altro o di analogo estimatore diciamo del grado di disordine del sistema credo che cioè che questa sia l'affermazione supplementare necessaria a dare un senso a tutto e a rendere comprensibile l'irretressibilità che era il punto ad cui siamo partiti ora sono passati appunto come dicevo settant'anni da quando Feynman scrisse questo o la cosmologia si è sviluppata ampiamente ma a mio avviso non abbiamo ancora una spiegazione soddisfacente del perché andando indietro nel passato l'universo si trovava in stati sempre più ordinati arrivando ad un inizio in cui era decisamente più ordinato di quanto le oggi quando si parla di queste cose spesso si fa un pochino di confusione quindi non vorrei avervi confuso questo aumento l'entropia non va vista altro che come un estimatore del grado di irreversibilità di quello che succede nel mondo cioè un misuratore della freccia del tempo però quello che conta è quello e il succo diciamo di quello che dice Feynman è che non abbiamo ancora oggi una spiegazione convincente a livello cosmologico di questa freccia del tempo e qui si aprirebbe poi un altro seminario nel discutere insomma che cosa c'è da dirci la cosmologia moderna su questo problema però con questo pensiero finale di Feynman pensavo di avviarmi alla conclusione e mi pare di essere stato nei 50 minuti che più o meno avevo promesso a Sandro e agli organizzatori grazie 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 professor Zanghi c'è subito una domanda però penso che abbia già appena risposto che dice quindi la freccia del tempo e l'entropia del nostro diverso proseguono insieme allora dicevo appunto che l'entropia è un estimatore del grado di reversibilità dell'universo ci sono poi l'universo ha una ricchezza enorme di una notevole complessità quindi poi bisogna anche capire perché questo aumento globale dell'entropia è comunque consistente ma più che consistente va d'accordo con un aumento di complessità che vediamo che osserviamo nel formarsi diciamo dei sistemi planetari nel formarsi di organismi più o meno complessi e di sistemi evidenti sì però diciamo la risposta è sì alla domanda che mi è stata fatta ok grazie c'è un'altra domanda forse un po' più generica dice ma dunque il tempo che cos'è in uno spazio quadridimensionale non so se allora io ho lasciato volutamente fuori la relatività però i problemi di cui sto parlando si ripresentano in relatività e ci mancherebbe altro è la teoria migliore che abbiamo per descrivere l'universo e il problema della fresca del tempo rimane inalterato anche in un contesto relativistico quando si parla di relatività è buona cosa parlare di relatività generale non ristretta cioè della teoria che è più adeguata descrivere l'universo nella sua struttura ultramacroscopica allora a quel livello ci troviamo diciamo con una struttura comunque per quanto diciamo nella visione spazio-temporale possiamo immaginare l'universo come congelato in quattro dimensioni questa è una delle immagini che possiamo avere però è chiaro che c'ha una parte che ha una certa struttura e una parte che è un'altra cioè il fatto che sia che ci siano le quattro dimensioni non elimino minimamente il problema di comprendere perché ci sia stata ci sia questa struttura nello spazio-tempo e non un'altra quindi la la gravità diciamo diventa un ingrediente ulteriore per comprendere meglio la seconda legge della termodinamica ma il fatto che si ragioni in termini spazio-temporali non modifica il problema che il problema è quello di comprendere perché nello spazio-tempo di una descrizione relativistica generale coerente con i dati che abbiamo in nostro possesso in questa descrizione ci sia una parte dello spazio-tempo che abbia una struttura e un'altra parte che ne abbia un'altra che noi interpretiamo comunque come freccia del tempo in questo disegno abbiamo una chiara direzione temporale che è quella che ci porta dall'inizio ai giorni nostri quindi il tempo diciamo non è il problema della freccia del tempo non cessa di esistere anche in un contesto quadridimensionale anzi diventa ancora più importante affrontarlo in quel contesto non so se avesse in mente questo perché se invece la domanda era molto generale che cosa intendiamo per tempo in un contesto quadridimensionale questo ci porterebbe un po' lontano dal percorso di oggi non mi sentirei di rispondere in due minuti vorrebbe dire parlare un pochino dell'attività e di come la nostra esperienza di tempo che scorre è comunque compatibile con una visione della fisica quadridimensionale però questo ci porterebbe a un'altra grazie invece qua c'è una forse un po' più centrata sull'argomento che dice il modello inflazionario di Gutt potrebbe spiegare la bassa entropia iniziale dell'universo io sono molto scettico su questo la mia risposta sarebbe no ogni tanto c'è qualcuno che sostiene che questi modelli inflazionari superano questo problema io non ne sono per nulla convinto so di essere in buona compagnia e quindi però anche qui diciamo spiegare perché non sono convinto mi porterebbe lontano ma penso che il problema resti aperto ci fanno capire alcuni aspetti ma non vanno all'annoccio della questione che solleva fare c'è sempre in qualche modo un po' da fare su come era fatto l'universo ad un certo punto la cosa migliore la cosa più bella sarebbe quella di avere una spiegazione in cui io ho le leggi reversibili della fisica solo sulla base di quelle leggi riesco a spiegare perché andando indietro del passato l'entropia diminuisce ci ho giocato professionalmente con modelli che cercavano di catturare quest'idea e portava ad universi con molte dirramazioni con molte branche a molti versi cioè portava ad una cosmologia estremamente esotica però andando in cosmologia abbastanza esotica un pochino ci si avvicina a a a trovare una una sorta di spiegazione sulla collezione iniziale grazie e ancora una domanda un po' più leggera che dice considerate la direzione della freccia del tempo la macchina del tempo resta un'invenzione cinematografica allora come si dice abbiamo molti film la macchina del tempo meriterebbe un seminario per conto suo che peraltro ho fatto l'anno scorso agli studenti di Cidiga a questo punto aspettiamo che ce lo venga a fare e diciamo era il seminario di Natale quindi diciamo fatto per prima del covid in effetti quello che ho cercato di difendere in quel seminario è che l'idea di manca del tempo è meno folle di quello che possa apparire e una volta che ho cercato di spiegare perché è meno folle perché se vado a vedere certi modelli di relatività generale l'idea che si possa tornare indietro il tempo non è così impossibile la ragione principale del perché non penso che faremo mai una macchina del tempo è per il conflitto che ha con la freccia del tempo alla fine in questi modelli ci sono dei modelli di universo il primo a introdurre era un grande matematica e logico che si chiamava Gödel che sono dei modelli in cui ci sono delle traiettorie in qualche modo chiuse in cui pur muovendosi sempre lungo una curva spazio-temporale corretta quella che si direbbe diciamo una particella materiale e poi si richiude su se stessa però ci sarebbero dei conflitti profondi e irrisolvibili con la nostra esperienza della seconda legge della termodinamica quindi sarebbe un conflitto con la seconda legge della termodinamica quello che ci porta a descrivere la possibilità di viaggi nel tempo ma ripeto sono più plausibili di quello che uno potrebbe pensare Stanno arrivando altre domande Pietro dice mi pare di ricordare di aver letto mezzo secolo fa Feynman che rappresentava l'antimateria come materia perm cui la linea di universo o qualcosa del genere il tempo scorresse alla rovescia ricordo bene ho preso un abbaglio ricorda bene Pietro allora ricorda bene questa è una vecchia idea di Feynman che addirittura Feynman ebbe quando era studente ed è esattamente di quel tipo non è strettamente collegato anzi non è collegato al discorso fatto oggi ma l'idea di Feynman era proprio quella di immaginare però qui è già un concetto relativistico quello che viene dovremmo descrivere se siamo nello spazio-tempo allora una particella segue una linea di universo nello spazio-tempo e il il noccio della relatività è che quell'X e quel T che ho messo sono del tutto arbitrari in realtà non esiste un T uguale per tutti come c'è per nel in un contesto invece newtoniano che è quello che ho seguito oggi ma il lo scorrere del tempo è dipendente dal dal sistema che si muove come dire orologi in movimento segnano ore differenti e quindi anche lo scorrere e lo scorrere del tempo diciamo noi siamo abituati a pensare su scala macroscopica che avvenga comunque in una sola direzione anche se gli orologi disegnano ore differenti l'idea di Feynman fu quella di interpretare le cariche negative come degli elettroni in cui lo scorrimento del tempo avveniva nella direzione opposta quindi chi l'ha detto si ricordava correttamente diciamo di quello che scrisse Feynman è una vecchia sua idea già ai tempi della sua tesi di vetorale ok ci sono ancora due domande che sono un po' una domanda sola perché vanno un po' tutte nella stessa direzione e dice visto che l'entropia aumenta se si considera una regione di spazio più grandi l'aumento dell'entropia del nostro universo spiega anche il fatto che sia in espansione cioè lega un po' il concetto del gas che si espande nelle due stanze allora qui parliamo di regioni nel disegno che davanti nello spazio delle fasi che rappresenta diciamo i microstati nel quando si affronta questa espansione dell'universo c'è un aumento di volume in qualche modo e quindi questo in qualche modo modifica questo disegno qui davanti uno dovrebbe avere un disegno in cui si tiene anche conto del fatto che le dimensioni dell'universo variano e quindi lo spazio dei microstati non è un qualcosa di fissato ma in qualche modo i gradi di libertà cambiano però non è sufficiente uno dice ma allora il fatto che esistano modelli espansivi è sufficiente a garantire la freccia del tempo la risposta è no non è sufficiente i modelli di universo in espansione sono dei modelli però bisogna spiegare all'interno di questi modelli il perché poi la freccia ci sono nella fisica ci sono varie frecce del tempo questo è nel dettaglio in cui non sono andato una freccia del tempo di tipo gravitazionale che è legata a quello che è stato ottenuto una freccia del tempo di tipo termodinamico che è quella di cui ho parlato prima e frecce del tempo associata per esempio alla radiazione al fatto che la radiazione viene sempre messa ho lambito questa freccia del tempo quando ho fatto questo disegno delle onde d'acqua in realtà mi riferisco a onde elettromagnetiche per cui il fatto che quando le antenne emettono onde che si propagano verso l'esterno non ci è vero ora ci deve essere un accordo tra queste varie frecce che ci sono associato ai vari fenomeni fisici e alla fine non se ne esce dal richiedere uno stato iniziale di bassa centropia diciamo non è che mi basta poi l'aver garantito diciamo un modello cosmologico che ha le giuste caratteristiche per avere risolto diciamo tutto e aver dato una spiegazione completa al problema delle rivolse di tanti però certo quello è un ingrediente in più di cui dobbiamo tenere conto l'esposizione dell'universo grazie ancora una nella meccanica quantistica viene violato quindi il principio di causalità io non ho parlato di meccanica quantistica oggi certo ho parlato di tante cose però era meccanica statistica ah statistica no 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 qua parla di no no qua dici proprio quantistica sì sì la domanda era proprio quella e lo so però diciamo io ne parlerei volentieri ma ma non abbiamo ragionare di meccanica quantistica io non penso che sia violato qualunque cosa voglio dire il principio di causalità però il discorso è sottile perché c'è una sorta di casualità apparentemente intrinse che c'è nomine quantistica ci sono un discorso che ci porterebbe lontano comunque il mondo che ci circone è un mondo che è fatto da oggetti quantistici e noi abbiamo una struttura causale se non altro colgo in questo prima parlavo di varie frecce del tempo un'altra frecce del tempo importante da 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 collegare alle altre è quella la freccia causale il fatto che in qualche modo abbiamo il nostro mondo una struttura causale anche quella è un qualcosa che abbiamo spiegato su scala macroscopica quindi qualunque sia il dibattito che possiamo avere se la causalità è violata o no a livello micro di meccanica quantistica abbiamo nel nostro mondo una chiara struttura causale se uno cammina sulla sabbia lascia delle impronte e quelle impronte sono il segno che qualcuno è passato quindi c'è stata una causa che è non ho toccato questo aspetto della struttura causale del nostro universo però quello è un altro ingrediente importante della freccia del tempo sono moltissimi gli argomenti che si possono collegare a quello che io ho raccontato stasera bene grazie mille penso che ci siamo divertiti tutti tantissimo a me è piaciuta tantissimo personalmente la spiegazione l'ho trovata visto che ha citato Feynman illuminante come leggere veramente un pezzo di Feynman sono arrivato a questa età e mi illumina ancora su queste cose grazie mille io ringrazio tutti la invito a se vorrà tornare con noi a parlare di un altro argomento più che volentieri l'ascolteremo con piacere volevo provarlo a invitare per Natale eventualmente visto che a un anno di distanza potresti fare una replica ecco sulla macchina del tempo volentieri mi ha fatto veramente piacere a recuperare questo rapporto che un tempo avevamo che poi negli anni si è un po' duradato teniamoci in contatto molto bene allora grazie dell'intervento di stasera erano argomenti che da tanto tempo non avevo avuto modo di non ho avuto modo per motivi del mio lavoro di trattare ecco il mio lavoro però mi porta ogni tanto a ricordare l'analogia che c'è tra l'entropia che tu hai citato c'è l'entropia di Boltzmann con l'entropia legata all'informazione da cui Shannon deriva la forma praticamente la stessa forma è interessante poi anche a vedere come quando ho visto oggi pomeriggio quando abbiamo fatto un po' di prove ho visto i due gas a contatto mi è venuto in mente il diavoletto di Maxwell dove in quel punto forse lì c'è il punto di contatto tra termodinamica e informazione il diavoletto che separa le particelle sapendo e registrando la temperatura delle particelle le separa sembrerebbe che questa operazione potrebbe avere potesse avvenire senza consumo di energia quindi separare il caldo dal freddo ma poi si scopre che in verità il consumo di energia c'è lo stesso perché anche trattare l'informazione implica consumare energia quindi anche la freccia del tempo informatico ha una sua rilevanza stasera stiamo consumando energia go go perché ogni volta che cancelliamo i pixel dello schermo per aggiornarli in un'altra maniera stiamo consumando energia il collegamento sta proprio in quello sta nel cancellamento dell'informazione lo stadio del collegamento tra l'entropia informatica e quella della fisica è quando l'informazione viene ma non lo ricordo più sinceramente come si chiama però è estremamente interessante come due mondi molto diversi quello della cosmologia quello della termodinamica e quello dell'informazione siano però profondamente collegati fra di voi sì questo è vero si possono stabilire delle parallelismi delle analogie e differenze mi ha sempre ricordato questo aneddoto che quando Shannon si occupava di queste cose ne parlò con Von Neumann i più grandi matematici del XX secolo e gli disse ma come la chiamo questa quantità per misurare le informazioni ma si chiama l'entropia tanto nessuno capisce cosa è l'entropia che è un'entropia che che Grazie.